Ah, Helen! Buongiorno. Buongiorno. Piaciuta la casa? È troppo isolata per me. Avrei paura a dormire lì da sola. Ha ognuno le sue angosce. Ha già pranzato? Sicura che non vuoi altro? Offro io. No, grazie. Tieni, è per te. Per quale motivo? Mi fa piacere. Grazie, sono molto belli. Sono nel mio stile. Sì, provali. Chi c'è? Ho fatto qualcosa di sbagliato? No. È solo che lo trovo un po' bizzarro. In che senso? Beh, non lo so, tutte le tue gentilezze e ora questo regalo, le tue domande. Potrei non essere la persona che credi. So bene che non sei sempre sorridente come con le tue clienti, ma questo non mi interessa. Che intenzioni hai? Nessuna. Non conosco molte persone qui. No. Sei. No. No. Grazie a tutti